Mi sta caldo, che dici? E va, venisse su tutto il poggio di sua terra. Guarda che bel lavoro che si è fatto. Strada nuova, albero tagliato. E ora ce l'ha passate per primo. E ora ce l'ha passate per primo. E ora ce l'ha passata. 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 Che c'è? L'acqua come ti sta nei radiatori? L'acqua nei radiatori? E ora ce l'ha passata. 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 aspetta eh aspetta eh c'è un finito è uscita la catena c'è un finito ecco perché non andavo non c'è una faccia magia vabbè ma si potrà rimettere ma è facile ma che è aspetta eh Luca ma se prendi la risconcia non ce la fa e il rischio è di cascar aspetta aspetta eh a 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 un libero che capito che si lavora via ora si attraversa di qui con la moto vai io mi guardo poi dopo non lo voglio si si è di di lì tra lì e per ci 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 ci